eccoci direttamente dopo il promo con fra luigi la vecchia che saluto e come sapete il suo programma è curato anche dalla sottoscritta davidio ciavarella che ugualmente approfitto per ringraziare noi a proposito di voglia appunto di respirare anche attraverso l'arte i problemi che abbiamo intorno e a volte anche vicinissimo alle nostre vite oggi toni abbiamo davvero un super testimone lo voglio chiamare così e si dici bene siamo felici di avere con noi davide grittani giornalista e scrittore che ha firmato tante tante opere veramente degne di nota con una scrittura bella davvero coinvolgente un ritmo incalzante in tutte le sue opere e non manca anche in questa sua nuova uscita il greggio candidato al premio strega 2024 complimenti innanzitutto grazie 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 per l'invito soprattutto grazie e direi che sono le ultime ore prima di sapere domani quale sarà la dozzina quindi la scrematura diventa davvero impietosa in un certo senso cosa ti aspetti di passare queste forche caudine lo speri immagino ma sì ovviamente ovviamente lo spero anche se nel tempo e la mia terza partecipazione ho imparato diciamo così che questo genere di premio non si fa diciamo così con con l'animo o con la predisposizione ristretta soltanto a questo tipo di selezione insomma è un premio si partecipa se ne accettano le logiche però insomma la vita di un libro è infinitamente più ampia più elaborata anche più ambiziosa il senso che insomma se si restringesse tutto questo sarebbe abbastanza un equivoco invece il libro soprattutto questo libro è molto più complesso va molto oltre insomma c'è già una vita molto come dire al di là di questo esito comunque esso sia assolutamente dici cose sacrosante però è altrettanto vero che il semplice fatto di essere candidato un premio così prestigioso di per sé un sigillo di garanzia ecco lasciami lasciami passare l'espressione senza dubbio però è anche un modo di grazie ovviamente lo capisco lo comprendo al tempo stesso il greggio è stato invitato in un'altra di 17 premi è un modo per dire appunto che che la vita di un libro non si può restringere a un appuntamento per quanto sia straordinario importante abbiamo ricevuto 70 richieste di presentazione che stiamo come dire affrontando se la salute ce lo permette fino alla fine quindi insomma è un libro che è stato accolto in una maniera che non potevo sospettare e che non immaginavamo e forse anche per quello che contiene per la per come dire la l'approccio a un tema che che molto spesso diciamo così non ci sfugge in qualche modo cioè che che cosa che cosa succede dove va a finire il nostro consenso e invece lo fa con un romanzo per i contenuti lascio la parola a maria pietra qualche istante perché la regia ci faceva vedere l'elenco delle presentazioni che che farai e dal nord al sud italia un una road map direi no fitta di impegni ed è la testimonianza appunto della qualità del tuo lavoro e dei frutti che stai raccogliendo perché il greggio appunto è non è la tua prima opera segue altre opere che hanno hanno avuto un grande riscontro di pubblico e di critica i due prossimi appuntamenti leggo sono domani a san michele di vari se ho letto bene cinque e poi dopo domani a trani quindi abbastanza vicino anche alla tua terra che è foggia poi napoli salerno tellizzi torino doppio appuntamento bologna parma insomma avrai tanti chilometri da fare e poi naturalmente ci auguriamo anche che ci sia un salto internazionale chiedendo scusa alle pecore perché ormai il termine greggio davvero viene adoperato quasi sempre con una accezione metaforica negativa il tuo greggio qual è in questo libro è un magma di trasformazione di metamorfosi negativa di un piccolo branco di ragazzi diciamo di amici di scuola di compagni di scuola che durante una campagna elettorale quasi inconsapevolmente assistono alla loro trasfigurazione da piccola diciamo si da piccolo branco anarchico che che sta portando sta cercando di sostenere la campagna elettorale di un di un candidato sindaco fanatico razzista oltransista davvero un uomo spregevole verso una dimensione diciamo così istituzionale e questa questa spinta propulsiva viene al di là di ogni etica al di sotto di ogni di ogni ragionamento su su cosa su cosa si può fare su cosa e di fronte a cui invece bisogna fermarsi e e porta appunto queste questi questi cinque ragazzi dentro una dimensione altra che non gli consente più di vedere il limite ma anche della dignità non solo della decenza e che li fa andare appunto in questa dimensione da gregge che li dici bene è un'accezione negativa ma al tempo stesso restituisce in maniera puntuale un magma diciamo così di persone apparentemente senza identità che va verso una direzione senza una guida precisa e senza un posto preciso senza un modo preciso e mi pareva l'allegoria perfetta per dire che c'è una grossa fetta di persone non soltanto elettorato ma insomma di pensiero che viene spesa in maniera anche molto diciamo così fulcoristica in direzioni che non si capiscono quali sono pur di appartenere a un gruppo di cose a un entità di di opinione ecco cioè si ha molto paura tantissima paura di dire una cosa isolata di dirla fuori dal coro per essere più chiari di dirla fuori dal gregge e si ha molto paura dell'isolamento che questo tipo di presa di posizione può avere nella vita delle persone ecco a me pare come dire il viatico più breve per l'annullamento della della bellezza che c'è invece nelle particolarità nel pensiero nel pensiero singolo individuale e si è una riflessione pregnante del resto l'arte in generale ma la scrittura in particolare i libri in particolare ci accompagnano non solo a leggere la realtà che ci circonda ma a riflettere appunto su quello che accade un quadro maria pia una canzone a volte hanno un effetto folgorante invece un libro ci accompagna anche giorno dopo giorno e ci aiuta a riflettere su quello che succede ci sono anche dei libri però che fanno un effetto folgorante il tuo davide qual è stato ho letto mi è capitato di leggere per caso quando studiavo non l'avevo fatto prima insomma ma di recuperare questa lettura straordinaria di un giornalista tra l'altro insomma o comunque insomma di quello che si diceva essere un giornalista invece era uno straordinario narratova che Dino Buzzati un amore è una storia ambientata a Milano. Dino Buzzati proprio hai acquistato mille punti con me citandolo anche se forse i racconti sono diciamo l'opera che mi piace di più tra l'altro abbiamo fatto anche una pagina di storia su di lui sì vero sì ed è un autore di straordinaria complessità con con Pasolini divide questa idea di di laicismo molto vicino invece alla fede religiosa di chi non l'ha mai confessato ma invece aveva tantissimi punti di contatto ed è persona di straordinaria complessità che forse andrebbe rianalizzata anche da questo punto di vista da chi voleva essere aiutato a capire che tipo di spiritualità conteneva il suo pensiero invece è stato più semplice diciamo così catalogarlo sotto sotto la diciamo sì la bolla degli ati invece lui aveva un grande senso di profondità dello spirito che forse andava anche da un punto di vista di letteratura andrebbe recuperata. Tanta profondità la troveremo anche nel libro ma più in generale nei libri di Davide Grittani che vi invitiamo a leggere e a cui facciamo tanti cari auguri per quello che si diceva in apertura. Davide grazie per essere stato con noi stamattina speriamo di ritrovarti presto con buone notizie. Grazie mille a voi buona giornata buon lavoro. Grazie ancora e in ogni caso complimenti.